Domenico Chiarelli, codice 0. 0-3, tutti veramente bravi. Io vorrei anche invitare accanto a noi Bill Magoich per un secondo momento musicale, ma anche per sapere una tua prima impressione su quello che abbiamo ascoltato, sui musical. Impressione, non si può dire un'impressione, sono meravigliosi, sono. Sarà difficilissimo dare un problema, cioè io lo darei a tutti perché sono eccezionali. Intanto sono proprio bravi anche vocalmente. Costumi, trucco. L'insieme è emozionante. È vero, però concentratemi. Poi perché l'ha visto, insomma. A fine serata però mi dovrete dire chi è uno. Uno soltanto, sarà il vostro preferito. Grazie Angelo, noi ci vediamo più tardi per il secondo momento dedicato al talent.